Accettiamo il risultato con la consapevolezza di andarci a giocare il tutto per tutto a mola in maniera forte rispetto a domenica scorsa dove avevamo perso un po' di certezze con la sconfitta di Manfredoni. Tutto in 90 minuti quelli che verranno una stagione il 2 a 2 contro il Barletta esito di una partita tirata combattuta e ricca di episodi ha condotto il Corato a una finale anticipata quella contro il Mola formazione appagliata ai neroverdi di Scaringella in quarta piazza nel girone A con 16 punti da preparare con le certezze consolidate grazie al pareggio contro la Corazzata allenata da Francesco Farina. C'è da recriminare da parte nostra per qualche episodio andato male non soltanto arbitrale ma anche di gioco però non mi va di mettere l'accento su queste situazioni bensì sull'aspetto tecnico tattico caratteriale era una risposta importante che volevo dai ragazzi e credo che ci sia stata. Due volte in svantaggio due volte in grado di raggiungere l'avversario grazie alla doppietta di Petitti del 2 a 2 contro il Barletta Scaringella esalta soprattutto la capacità di reazione dei suoi aspetto che era invece mancato sette giorni prima a Manfredonia in quella che era stata l'unica sconfitta di un mini torneo condito da quattro vittorie e quattro pareggi. Quell'aspetto che ci è mancato a Manfredonia dove per la prima volta nell'arco di questo torneo siamo passati in svantaggio e non abbiamo avuto la forza al 100% di reagire. Sotto questo punto di vista insomma sono contento perché ripeto per loro stessi questa è una iniezione di fiducia, di autostima importante. Testa allora al Mola di fatto l'ultimo turno della regular season equivale a uno spareggio con il Corato che avrà però a disposizione due risultati su tre per accedere ai playoff. Anche un pareggio con eventuale aggancio all'audace che riposa e arriva a tre squadre a 17 punti premierebbe Montaldi e Soci. Il Mola invece sarà costretto a vincere. Ci toccherà domenica prossima a Mola giocare una partita importante. Noi addetti ai lavori lavoriamo per giocare queste partite perché ci danno adrenalina e quindi che ben vengano insomma queste partite prossime.